siamo con roberto grandi al mambo roberto grandi presidente dell'istituzione bologna musei e parleremo con lui di varie cose cercheremo di capire un po che cosa è l'istituzione come sono i musei bolognesi come si rapportano con la città eccetera eccetera quindi partiamo proprio dal dall'inizio che cosa è questa istituzione come è nata perché è nata ma questa istituzione è nata dal mettere assieme quelli che erano i musei civici tradizionali quindi dal museo archeologico al museo medievale museo del risorgimento museo della musica altri a quelli propri della istituzione della galleria che era della galleria d'arte moderna e quindi abbiamo mambo all'interno del quale c'è il museo morandi c'è villa delle rose c'è il museo di ustica e quindi l'istituzione mette assieme questi 14 spazi museali tra loro diversi nel senso che alcuni fanno riferimento all'ambito più storico e gli altri all'ambito più contemporaneo la caratteristica diciamo di tutto questo è determinata dalle collezioni permanenti collezioni permanenti che sono il valore aggiunto di questo museo perché le collezioni permanenti sono uniche o uno viene a vederle qua o non riesce a vederle da nessun'altra parte poi abbiamo due spazi per le esposizioni uno al museo archeologico di mille metri quadri e lo spazio della sala delle ciminiere a mambo che sono dedicati a mostre correlate alle attività dei due musei quindi cosa è cambiato fra prima e dopo? ma è cambiato diciamo il tentativo di fare capire l'identità dell'istituzione che non è semplice anche per chi invece aveva interesse e cura del proprio museo e anche rompere la credenza che chi è interessato all'archeologia non è interessato al contemporaneo che chi è interessato al medievale non è interessato all'archeologia chi è interessato al museo della musica non è ecco quindi il tentativo che stiamo facendo non sono ancora riuscito ma credo fra qualche mese di riuscire per esempio è di avere la newsletter dell'istituzione Bologna Musei ad oggi se uno vuole sapere che cosa succede si deve iscrivere a 5, 6, 7 diverse newsletter secondo me è una follia ma c'è una logica dietro a tutto questo questo rientra proprio un po' nel concetto di cui ci troviamo sempre a parlare nel nostro settore che è quello di fare rete fra le istituzioni di andare tutti quanti insieme nella stessa direzione cosa che poi purtroppo in Italia sempre difficilmente si riesce a fare se ne parla tanto ma non si riesce mai a portare avanti questo genere sì questo è più complesso ma io credo che sia interessante è proprio perché si vede come i pubblici sono pubblici che si trasmigrano da un aspetto all'altro non c'è quello sì proprio ci sono pochissimi quelli che si interessano solo di un aspetto il patrimonio industriale piuttosto che e questa grande varietà è importante perché uno riesce così a passare da un all'altro con queste collezioni permanenti che tentiamo di rendere vive attraverso mostre continue che facciamo magari ospitando uno o due opere d'arte o ridefinendo quello che abbiamo anche perché dobbiamo ricordare che musei come il nostro hanno un numero elevato di opere d'arte e la possibilità di esporle sono ridotte credo che noi abbiamo sui 340.000 oggetti e quindi questa attività di conservazione è assolutamente importante però la cosa che dobbiamo capire è che nascono i musei come conservazione ma fin dall'inizio del museo civico archeologico è nato per al tempo si diceva educare i cittadini quindi la conservazione va assieme a quella che è la promozione a quella che è l'educazione come si diceva un tempo dei cittadini e attualmente quindi diciamo che si tende a riequilibrare questo aspetto prima l'aspetto conservativo era quello prevalente ed è sufficiente guardare anche le professionalità che ci sono nei musei le professionalità dei musei sono soprattutto dei conservatori che è importante perché i conservatori non soltanto conservano ma devono definire da un punto di vista anche scientifico cosa sono quegli oggetti, la storia di quegli oggetti e quindi la possibilità di connetterli con altri oggetti i rapporti con altri musei simili nel mondo ma adesso il tema è quello della promozione nei confronti dei diversi tipi di pubblico quindi insieme ai conservatori bisognerebbe inserire la figura del promotore che è una cosa che ancora ad alcuni farà addrizzare i peli noi adesso questo lo stiamo facendo con ovviamente le difficoltà delle istituzioni pubbliche di riuscire a fare dei concorsi però adesso quelli che entrano sono più sull'ambito della comunicazione e poi invece per quanto riguarda la didattica che è una delle parti fondamentali del nostro museo lì invece ovviamente come tale c'è tutto il discorso della sperimentazione laboratoriale i nostri sono musei che le presenze in un anno nella didattica sono 92.000 ed avendo musei così diversi si va dall'arte contemporanea ai laboratori e quindi anche le summer school che facciamo a laboratori come al nostro museo della musica dove iniziano i laboratori per i bambini nella fascia da 0 a 36 mesi non anni a 36 mesi ecco quindi c'è questo per quanto riguarda invece il discorso del promotore è assolutamente importante e abbiamo un grosso progetto che dovrebbe partire nel giro di 5 o 6 mesi che è un progetto con dei fondi europei cosiddetti PON che sono fondi che fanno riferimento al sociale alle fasce deboli e che noi utilizzeremmo per diciamo dei corsi ma non dei corsi brevi proprio dei corsi lunghi per mediatori culturali di tutti i tipi all'interno dei musei ma con un intento diverso dai tanti corsi che vengono fatti corsi che poi dopo creano delle figure che non si sa se hanno la possibilità ma con questo progetto noi vogliamo che queste alcune decine che vengono formati poi dopo di avere già la possibilità nel budget di tenerli almeno qualche anno all'interno per fare questa opera di mediazione culturale che è nei confronti di quelli che vengono detti nuovi cittadini ma soprattutto nei confronti di tutti i residenti perché musei come i nostri sono musei che hanno due pubblici assolutamente diversi da una parte i residenti e dall'altra invece hanno i cosiddetti visitatori, i turisti nei confronti dei residenti quello che dobbiamo fare è aumentare il senso di appartenenza devi sentire il museo come parte voglio dire della tua identità e non vivere il museo come lo vivi quando vai all'estero e quindi vai al museo una volta ogni 3-4 anni quando hai il tempo per andare ecco nei confronti dei residenti sia con la card dei musei metropolitani che sta avendo un buon successo speriamo sia sempre maggiore diciamo con gli sconti che hanno tutti con 20 euro uno può entrare gratuitamente e avere uno sconto del 50% sulle mostre permanenti anche dei privati e anche nei confronti dei teatri eccetera quindi ecco con questo noi vogliamo cambiare però la cultura di andare al museo cioè fondamentalmente chi ha la card dei musei metropolitani deve pensare che andare al museo ha la stessa leggerezza che ha andare da Zara andare da H&M adesso che è freddo vado nel museo perché rimango un quarto d'ora non di più dopo un quarto d'ora è già eccessivo se è il museo della mia città e mi guardo una cosa vado al museo della musica e mi guardo o mi riguardo il primo libro mai stampato di musica al mondo o il compito che ha fatto Mozart oppure mi guardo ecco questa opera due opere e poi esco e così via perché ce ne sono talmente tante che posso passare la mia vita andarci ogni tanto quando ho il tempo libero e trovare sempre qualche cosa di nuovo è chiaro che noi dobbiamo incoraggiare tutto questo da una parte lo facciamo attraverso i curatori fanno questi quarti d'ora che hanno definito quarti d'ora accademico in cui in un quarto d'ora raccontano un'opera e poi basta poi dopo uno può rimanere se vuole ma tanto va ad uscire questo nei confronti dei residenti quello che vorremmo fare è anche un discorso di welfare aziendale e cioè che le imprese possano acquistare un certo numero di card nei confronti dei propri dipendenti che vogliano voglio dire andare andare al museo poi abbiamo visto anche in questi giorni voglio dire in Canada addirittura vengono prescritti dai medici le visite ai musei come terapia e quindi si va al museo gratuitamente perché viene prescritto dalla mutua per così dire ma nei confronti dei residenti questo è ciò che si deve fare abbiamo tentato anche quest'estate con questi dieci minuti per quattordici volte prima del cinema in piazza che a Bologna ci sono cinquemila persone che aspettano il film e il curatore raccontava un aspetto del singolo museo abbiamo fatto un'intera serata in piazza maggiore raccontando la storia della piazza attraverso tutto ciò che abbiamo tutto ciò che abbiamo nei musei ecco quello di cui ci dobbiamo rendere conto e che sempre più dobbiamo capire è che nei nostri musei non ci sono opere d'arte nei nostri musei ci sono delle storie e quindi se riusciamo a trasformare questo in storie noi riusciamo a conquistare il pubblico per farlo ci vuole uno una competenza scientifica due ecco che ci vuole però dopo una narrazione su questa competenza non è semplice perché ci vorrebbero voglio dire dei finanziamenti ad hoc ci vorrebbe qualcuno che sponsorizzasse il racconto con delle competenze che già cominciano ad esserci nella società insomma chi riesce chi riesce a farlo è chiaro che tutto questo lo si può fare sia attraverso il rapporto faccia a faccia proprio perché ci sono degli oggetti materiali che abbiamo nei nostri ma lo si può fare cominciare a fare farlo anche attraverso attraverso la rete questo è l'altro aspetto noi per ora stiamo portando avanti anche perché su questo diciamo che il sito che abbiamo e i social a seconda dei musei hanno degli alti e dei bassi ma siamo ancora in arretrato rispetto a quello che facciamo e anche in questo caso non è un problema di mancanza di idee è un problema proprio che i fondi su questo per ora non ci sono ma per ora quello che abbiamo fatto è la digitalizzazione di quello che abbiamo e sono decine di migliaia di file abbiamo questo sito storie e memoria di Bologna dove abbiamo la digitalizzazione di moltissime opere e per esempio interessanti sono quelli di un museo che adesso impropriamente viene definito museo o propriamente a un grosso successo di pubblico che è la nostra certosa dove ci sono dei monumenti bellissimi fatti da grandi scultori ognuno dei quali ovviamente ha una storia certo e quindi su storie musei Bologna ci sono le storie oramai di tutti questi e quindi uno può andare e rimanere affascinato io ogni tanto vado e guardo le storie allora uno si domanda come mai c'è questo meraviglioso monumento funebre a Gioacchino Murat vestito da Ussaro bellissimo quando più o meno sappiamo che a Pizzocalabro voglio dire il suo corpo è stato distrutto proprio perché non ne rimanesse le vestigie e quindi la ragione è perché la figlia per la sua tomba ecco che ha fatto la sua tomba a un livello piuttosto basso e sopra ci ha messo quella del padre quindi da questo punto di vista la creatività di questa donna che è riuscita attraverso la sua tomba a fare al padre ciò che la storia gli aveva negato e altre cose voglio dire meravigliose fino ad arrivare alle tombe storiche che abbiamo di Morandi di Carducci l'ultima di Lucio Dalla ma sono quelle storiche voglio dire che sono che sono interessanti e si trova la digitalizzazione abbiamo digitalizzato tanti materiali ma adesso bisognerebbe partendo da quelli cominciare a creare dei percorsi stiamo facendo e in questo caso sono percorsi come dicevi interistituzionali il percorso sulla musica parte dal museo della musica passa attraverso il conservatorio arriva al teatro comunale e quindi riesce a passare attraverso la città così come pensiamo di riuscire partendo dai nostri musei a raccontare ecco la la città abbiamo messo addirittura adesso in rete digitalizzato che sono sui 500 lapidi che ci sono nella città la lapide può sembrare una cosa banale perché quando andiamo ogni tanto le vediamo alziamo gli occhi e ci accorgiamo che lì qualcuno ha abitato è nato è passato ha fatto ecco averle messi in rete e avergli dato anche una tipologizzazione fa sì che chiunque possa andare e farsi i suoi percorsi farsi i suoi racconti poi noi quello che sappiamo è che al di là dell'ufficialità sono tanti quelli che a Bologna propongono percorsi con l'aumento che ci sono dei turisti e anche gli interessi che ci sono dei residenti cioè ci sono le Bologna esoteriche le Bologna medievali la Bologna ebraica eccetera ecco quindi tutti questi materiali essendo pubblici possono sollecitare chi chi vuole anche questa è una funzione che un museo civico deve fare deve portare avanti ma quello che che mi sembra sempre è che fra il fare e il raccontare anche a livelli di budget si è sempre portati a sbilanciarsi verso il fare cioè il museo giustamente ha delle attività istituzionali conservative e espositive che deve fare però i budget mi sembrano sempre sbilanciati verso questa cosa qui piuttosto che poi verso il raccontare rimangono sempre gli spiccioli poi per comunicare e per raccontare perché secondo lei c'è questo approccio? diciamo avendo io tutta la mia vita lavorato sulla comunicazione posso dire che questo non è un problema dei musei noi vediamo quando un'impresa quando un'impresa che sostiene che la comunicazione è strategica comincia a entrare una piccola crisi che cosa taglia per primo? il budget della comunicazione taglia il budget della comunicazione perché dice non posso tagliare quello della produzione se noi pensiamo ai nostri musei diciamo che il budget che noi abbiamo dall'amministrazione comunale non è tanto per la conservazione è il costo della guardiania che è il costo della guardiania proprio della guardiania come tale perché quello del personale ai livelli conservatori eccetera è il personale dell'amministrazione comunale quindi non entra nel costo del museo nel costo del museo è la guardiania rispetto al quale si può abbassare tagliando le ore noi abbiamo aumentato le ore di apertura e sulle ore anche stiamo ragionando su che cosa fare ma questo questo è vero sul budget però al di fuori di tutto questo abbiamo due tipi di budget uno per fare le mostre e due per quanto riguarda la comunicazione perché sono un po' un po' questi i budget è ovvio che quello che vorremmo fare è avere delle sponsorizzazioni che magari sono sponsorizzazioni per le mostre che facciamo e che possono servire per per la comunicazione perché sappiamo che questo voglio dire è è il punto nodale ma il punto nodale è il punto tale per cui non è non possiamo staccarlo da quello che facciamo certo se noi facciamo delle cose non vengono comunicate e perdiamo quella che è l'efficacia quindi la comunicazione è efficace quindi questa consapevolezza c'è poi come dici tra avere la consapevolezza e riuscire a farlo c'è c'è lo iato di quelli che sono le di quelli che sono i budget ma su questo questo è quello che che dobbiamo fare perché fa riferimento sia ai residenti come abbiamo detto sia ai visitatori che sono sempre più numerosi e che per esempio durante i periodi estivi abbiamo visto che i bolognesi di tutta l'area metropolitana erano sul 25-26% tutti gli altri visitatori con il 55% stranieri e lì proprio personalmente ho tentato di fare una cosa che non ho visto fare da altre parti neanche da altri musei nel mondo di capire se era possibile ricavare dal fatto che noi sappiamo che tutti quelli che vengono ai nostri musei da dove vengono per gli italiani abbiamo il codice di avviamento postale per gli altri sappiamo le città e quindi noi sappiamo esattamente da quali città o da quali nazioni vengono i nostri e allora sono andato a vedere i visitatori ufficiali della città di Bologna cioè quelli che dormano almeno una notte di cui sappiamo le nazioni e quindi ho visto ho fatto la comparazione e quindi quello che è emerso è una cosa che ovviamente ciascuno di noi pensa ma che l'ho provata da questa comparazione che abbiamo fatto all'interno da un punto di vista statistico che la propensione nel nostro caso degli australiani degli statunitensi dei canadesi degli inglesi olandesi quindi area soprattutto anglosassone hanno una propensione a venire ai musei che è di un 35-40% di quelli che vengono a Bologna che vengono ai musei rispetto metti agli spagnoli che è 10 o sotto il 10% quindi i dati che noi abbiamo ci servono anche per capire tutto questo nei confronti ecco degli stranieri attraverso Bologna Welcome che è la società che gestisce la destinazione stiamo facendo anche delle comunicazioni che sono comunicazioni sulle collezioni permanenti anche perché quando uno viene se c'è una mostra temporanea bene anche le nostre siamo felici ma uno viene e va alla collezione permanente questo ci dice come gli anglosassoni che abbiamo verificato lo fanno per metodo sanno che quelle collezioni permanenti o le vedi lì o non le vedi più le altre mostre anche mostre bellissime che noi facciamo se sono mostre che sono andate anche da altre parti possono essere viste da altre parti e quindi lì proprio c'è un un tentare ecco di e anche in questo caso di riuscire a raccontare le dieci cose per cui vale la pena per esempio gli statunitensi queste queste le hanno chiare vanno al museo della musica perché quelle cose sono sono soltanto sono soltanto lì dobbiamo riuscire a farlo vedo che insomma l'incremento che c'è adesso è un incremento da questo punto di vista interessato ma ci sarebbe tantissimo da fare anche utilizzando da questo punto di vista il digitale perché il digitale serve in questo caso può servire come come promozione e quindi soltanto adesso per esempio abbiamo cominciato nei nostri musei alcuni a utilizzare instagram perché attraverso instagram adesso si si strana storie si fanno delle storie possiamo definire questo nuovo rapporto così di fidelizzazione con i vari pubblici ma anche voglio dire attraverso altre modalità adesso è stato fatto un bando che avrà dei risultati fra poco per fare dei videogiochi i quali videogiochi abbiano al centro quelli che sono i nostri musei avevamo anche delle proposte che Bottega Finzioni ci aveva fatto di grande interesse su come riuscire a raccontare trovare lo sponsor non è facile non le raccontiamo perché sono sono proposte che riuscivano in qualche maniera a a creare voglio dire questo 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 interesse considerando poi anche che voglio dire oggi sì le nuove tecnologie poi sono anche interne a ciò che viene a ciò che viene a ciò che viene proposto quindi abbiamo una sovrapposizione una sovrapposizione di piani soprattutto per quanto riguarda ovviamente il contemporaneo ma ripeto tutto questo tutto questo va fatto e sull'importanza della sull'importanza della comunicazione c'è un dato che che è addirittura pre pre tutto pre comunicazione che il nostro museo da via Bargelini che è un museo meraviglioso in cui c'è diciamo l'arte applicata quindi c'è un po' di tutto curioso come entrare in una casa una casa privata non aveva lo stendardo per problemi con la sovrintendenza eccetera quindi per anni è andato avanti senza è stato messo lo stendardo in strada c'è stato l'aumento del 65% cioè metterlo in strada che uno alza gli occhi una strada di grande passaggio a 200 metri da quello della musica quindi voglio dire non stiamo in questo caso parlando del digitale della possibilità di metterlo così come le possibilità che abbiamo di mettere gli standardi sotto il portico nel museo nel museo archeologico il nostro museo archeologico non si vede passato certo perché ha soltanto una parte perché i nostri musei sono esattamente il contrario di quello che i musei virgolette oggi dovrebbero essere chi oggi fa un museo la prima cosa che fa è pensa allo spazio per la caffetteria lo spazio per il bookshop poi lo spazio per altri servizi didattici se ce li hanno non tutti ce li hanno e poi si attorno allo spazio anche per che siano aperti che si possano vedere in maniera tale che ti portano dentro eliminino per lo meno questa soglia fisica i nostri musei sono tutto il contrario perché sono musei sono musei storici quindi sono musei in cui non possiamo fare le caffetterie in cui abbiamo difficoltà voglio dire a creare spazi di questo tipo e quindi se non riusciamo nemmeno al di fuori creare questa attenzione per portare dentro si fa fatica e tutte le volte voglio dire è una grandissima fatica quando a volte si vede come invece ci siano dei privati che facciano anche delle pubblicità a volte di fronte all'uscita dei nostri musei come il museo archeologico accanto al anzi attaccato al lato della basilica di san petronio che se avessero un minimo di creatività perché le pubblicità ben vengano ma un minimo di creatività sarebbe meglio ecco quindi c'è anche c'è anche quest'aspetto da dire come riuscire a raccontare ma anche su questo con la superintendenza stiamo lavorando per riuscire magari ai nostri spazi raccontare quello che c'è dentro con degli oggetti che ti incuriosiscono ecco il tema nostro voglio dire fondamentale è questo riusciamo a fare per esempio in Certosa tutte le serate che ci sono d'estate ci sono serate su tutto in cui c'è la danza in cui si raccontano i misteri sono sold out di persone che vanno nella meraviglia voglio dire della serata ed è una modalità attraverso le quali mostriamo questo museo a viso aperto i nostri musei quello che c'è da dire è che sono totalmente aperti a questo quindi aspettiamo voglio dire e ci arrivano anche proposte per fare insieme qualche cosa le più creative possibili si possono si possono fare proprio perché il fine del museo deve essere di aprirsi di promuoversi di farsi conoscere di riuscire a raccontare e questo è quello che bisogna fare nei prossimi anni l'essere istituzione significa che questo racconto può passare attraverso attraverso varie varie modalità adesso per esempio un bando uscito sulla comunicazione ecco che stiamo pensando di fare una comunicazione digitale una comunicazione attraverso il cartaccio perché quello che vediamo anche se si dice che tutto passa attraverso le app eccetera però quando giri in città e la mappetta che Bologna Welcome dà dove sono è sempre voglio dire utilizzata perché l'online e l'offline devono interagire devono interagire al massimo e qua noi faremo quindi un oggetto per ogni nostro museo e raccontiamo la città e su questo vorrei farci anche un concorso dei premi ecco di queste cose che riescano a coinvolgere e la cosa bella è vedere che anche chi è stato assunto come come conservatore che ha giustamente l'ambizione di riuscire ad avere pubblicata sulle riviste delle grandi università del mondo un articolo su ciò che noi abbiamo facciano di tutto e riescono anche molto bene a raccontare quello che c'è però ovviamente sappiamo che voglio dire non è non è totalmente voglio dire il loro mestiere e invece quello che si diceva prima è ciò che dobbiamo fare partendo dal faccia a faccia sugli oggetti arrivare all'utilizzo del digitale al massimo livello partendo dalla sorpresa dall'incuriosire dal così dal fare capire che non è soltanto passato che guardando i nostri musei si capisce quando questo territorio è stato ha avuto i momenti alti i momenti alti li ha avuti proprio quando quando l'innovazione tecnologica si è accompagnata all'innovazione sociale e quindi questo è anche un racconto di quello che dovrebbe essere questo territorio raccontare che le due cose devono andare avanti assieme quindi dobbiamo innovare e contemporaneamente capire che c'è anche un'innovazione sociale che è raccontata voglio dire da quello che c'è nei nostri musei e soprattutto quello che noi diciamo diamo questo come filo conduttore diamo questo come filo conduttore perché allora i nostri musei non parlano soltanto del passato ma ti parlano di un'ipotesi di futuro perché se ai residenti vogliamo dare senso di appartenenza in un momento in cui voglio dire l'appartenenza il senso di comunità non sono così forti perché c'è un po' di questo individualismo utilitarista per mille ragioni ma sapendo che con tutte le cose che uno può fare il pensare di spendere un quarto d'ora mezz'ora all'interno di un museo non è semplice e quindi voglio dire dobbiamo dobbiamo provarci lei è un grande esperto di comunicazione di comunicazione di massa ha studiato la televisione ha studiato la comunicazione di massa per tanti anni oggi la comunicazione di massa ormai è chiaro che si sta spostando dalla televisione ai social media youtube netflix probabilmente diventeranno la nuova televisione da qui forse a dieci anni tutti noi che lavoriamo le istituzioni culturali e tutti gli operatori del settore culturale non dovrebbero secondo lei diventare dei veri e propri media l'istituzione museale non potrebbe non potrebbe barra dovrebbe forse nel prossimo futuro avere un suo canale un suo canale vuol dire racconto 24 ore su 24 ma anche archiviazione ma anche sponsorizzazione e qui ci ricolleghiamo al discorso delle sponsorizzazioni di prima perché oggi sembra che tutto l'advertising i budget i grossi budget si stanno spostando sui video quindi produrre video produrre materiale per questo genere di canali potrebbe essere anche una fonte di introito attraverso quelle sponsorizzazioni che oggi forse si fa fatica a stimolare perché lo sponsor oggi non è più interessato al loghino sul manifesto non gliene frega più niente vuole numeri vuole risultati vuole feedback vuole cose misurabili vuole coinvolgimento vuole experience quindi se l'istituzione riuscisse a diventare essa stessa un media potrebbe essere una grossa opportunità ma io credo diciamo brevemente rispetto a quello che hai detto che è un problema voglio dire di modificazioni dei media e sostanzialmente di modificazione del rapporto tra le imprese e quelli che sono i destinatari quindi i pubblici potenziali diciamo che fino a 15-20 anni fa era mediato dai mezzi di comunicazione di massa se io sono un'impresa sono un'istituzione un partito politico un museo e voglio parlare con i miei destinatari lo dovevo passare attraverso i mezzi di comunicazione di massa questo è ancora importante per certi brand ovviamente ma quello che l'universo digitale mi dà mi dà la possibilità di bypassare i mezzi di comunicazione di massa quindi di parlare direttamente se io posso parlare direttamente con i pubblici miei di riferimento che possono essere i consumatori i B2B i business quello che io faccio è da una parte la produzione posso fare dei tondini e la produzione di tondini ma dall'altra quello che io faccio è un'attività editoriale oggi qualsiasi impresa che utilizza il digitale è un'impresa editoriale su questo non c'è ombra di dubbio e ci vuole consapevolezza per quanto riguarda il discorso che facevi l'istituzione musei come tale voglio dire quello che sta già facendo da una parte è un'attività minima editoriale attraverso le collane voglio dire di libri che abbiamo attraverso l'utilizzo dei social che abbiamo ma ecco questa attività deve essere e dovrebbe essere sistematizzata molto molto di più fatta magari insieme a altre istituzioni anche dell'amministrazione comunale come istituzione biblioteche e riuscire a definire come dicevi una propria politica da questo punto di vista editoriale attraverso tutti i canali attraverso quindi canali video attraverso attraverso i social e su questo magari promuovere anche una serie di programmi che possono avere delle sponsorizzazioni che non riesci ad avere in altra maniera ovvero combinando ovvero combinando perché è chiaro che oggi secondo me la sponsorizzazione della singola mostra con logo può avere dei limiti ecco se io però da un lato dico non è tanto la sponsorizzazione di questo quanto invece ti do visibilità in tutti i miei musei quindi 600 mila persone che vengono fisicamente e che quindi quando sono alla cassa sanno che tu sei un sostenitore e quindi comincia esserci un rapporto e poi dopo invece su tutti i canali su quello che faccio il dato fondamentale di tutto questo è che per riuscire a partire voglio dire visto queste cose le conosco molto bene per riuscire a partire ci vuole un momento iniziale di investimento quello che purtroppo un'istituzione come la nostra museale non può fare è investire per avere un ritorno successivo cioè nel senso che i nostri bilanci devono essere sempre in pareggio mentre invece fare una cosa di questo tipo io dico faccio un investimento adesso e poi dopo avrò un ritorno successivo e quindi in questo in questo periodo ho un un minus un passivo questo non si può fare quindi bisogna pensare con chi potere fare tutto questo ma questo dicevi è fondamentale fondamentale perché lo siamo inevitabilmente ma lo è inevitabilmente qualsiasi impresa commerciale quando uno fa quando uno ha dei canali in quel momento è un editore in quel momento voglio dire quello che si dice come oggi a livello di marketing o quantomeno quando si parla di content marketing tu devi avere del contenuto perché dato fondamentale devi avere del contenuto perché tanti hanno tanti canali ma non hanno contenuti così come all'inizio i siti erano delle vetrine devi avere il contenuto devi avere l'abilità di dividere quel contenuto in 20 contenuti autonomi ciascuno dei quali venga veicolato da quelli che sono i canali che tu hai per arrivare a definire voglio dire rafforzare quello che è il tuo contenuto questo è ciò che devi fare diciamo che le imprese commerciali fanno fatica ad avere dei contenuti si lavora ma voglio dire sappiamo tutti lo storytelling la mitizzazione delle origini eccetera quello che come che i musei che hanno delle collezioni permanenti invece hanno hanno dei grandi contenuti hanno delle difficoltà che sono difficoltà a volte progettuali a volte ideative creative o perché sono arretrati culturalmente o perché non hanno il budget di invece creare i canali attraverso i quali avere e riuscire a promuovere tutto questo e quindi a farsi a farsi editori il che è inevitabile è inevitabile perché se anche tu non lo vuoi fare in quel caso sei un cattivo editore ma lo sei perché oggi ogni volta che bypassi i mass media certo tu fai questo per parlare direttamente e allora quello che io continuo a dire visto che in ogni caso qualsiasi cosa tu fai comunichi allora è meglio comunicare bene che comunicare male ma per comunicare bene devi avere una progettualità devi avere una pianificazione devi sapere quali contenuti fare come scioglierli attraverso i vari media devi avere poi le interazioni con eccetera è ovvio che tutto questo è importante noi per esempio per ora quello che stiamo raccogliendo i nostri 60.000 indirizzi della newsletter che faremo dell'istituzione che sono la somma di tutti gli altri sono interessanti perché sono persone che ti hanno lasciato fare come utilizzare al meglio tutto questo come fare questa attività editoriale attraverso tutti i canali che in questo caso poi si potrebbe accompagnare a un'attività offline a un'attività che facciamo fisica e questo credo che sia voglio dire questa è la sfida di tutte le istituzioni anche perché noi siamo un'istituzione particolare che da una parte dà difficoltà ma dall'altra dà un grande vantaggio perché molte istituzioni museali sono di un museo e quindi tu devi promuovere il tuo museo noi avendo tutto questo andiamo voglio dire dalla parte egizia del nostro museo archeologico o le scritture arcaiche che abbiamo fino al contemporaneo fino passando attraverso il museo Morandi eccetera quindi tutta questa ricchezza potrebbe dare come dicevi proprio una vera attività editoriale che attraversa tutto questo e credo e sono certo che questo è da fare non so quanto riusciremo a fare bisognerebbe trovare anche in questo caso qualcuno disposto a dire bene facciamo una una partnership su questo perché proviamo quindi chi ha anche gli strumenti le competenze le capacità di fare un qualche cosa che a livello laboratoriale possa possa servire sarebbe magnifico ma quindi vabbè per superare questo questo gap che diceva lei dell'impossibilità di investire sul medio e lungo termine ma dall'altra parte della necessità di farlo ovviamente bisognerebbe coinvolgere i privati e stimolare una continua partecipazione fra istituzione pubblico e privato quello che anche questa è una cosa che diciamo sempre da anni ma poi alla fine non si riesce mai perché secondo lei c'è sempre questa difficoltà poi a concretizzare progetti pubblico privato ma diciamo le difficoltà sono di vario tipo e poi sono a seconda dei progetti diciamo che per quanto riguarda per esempio la nostra istituzione se io penso a chi era chi erano i finanziatori maggiori decina di anni fa le due maggiori fondazioni di Bologna davano un milione e quattro adesso siamo passati a centomila e quindi questo è il primo problema il primo problema sono che le fondazioni oggi hanno difficoltà o fanno altre scelte per quanto riguarda i privati per quanto riguarda i privati diciamo che in una città come la nostra ci sono dei privati molto generosi i quali intervengono direttamente e quindi costruiscono i loro musei che sono estremamente importanti e quindi voglio dire non vengono per quanto riguarda i musei i musei pubblici e e diciamo in una situazione come questa sono sono tante le realtà voglio dire che domandano che così come 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 noi ci sono altre poi ci sono sempre realtà culturali che che hanno problemi anche budgetari molto forti e quindi rischi di liquidazione eccetera che sono quelli poi dopo che drenano sempre di più di un museo si pensa che in ogni caso rimane aperto sapendo che il rimanere aperto non è quello che il museo deve fare ma ecco e quindi fare dei progetti significa ripeto riuscire a fare delle cose a fare delle cose assieme stiamo tentando dando anche al massimo quello che un privato può fare ma non è così facile perché poi alla fine si dice io essendo stato avendo lavorato molto per per i privati sulla comunicazione ecco non è che ci sia tutta questa così generosità ma anche dal punto di vista del marketing se noi guardiamo al nostro territorio noi vediamo che abbiamo delle grandi imprese anche mondiali però sono imprese B2B e le imprese B2B sono diverse dalle imprese verso i consumatori verso i consumatori tu hai la necessità di fare qualche cosa B2B è un'altra è un'altra cosa dovresti farlo proprio per liberalità e questo magari lo fai attraverso anche altre modalità mentre invece è chiaro se tu hai invece qualcuno verso i consumatori allora gli diventa molto più facile perché lì tu interagisci anche con i loro canali di comunicazione certo cioè tu allora lavori a due vie tu dai dei contenuti ecco però devi trovare qualcuno che ha questo e se io guardo le grandi imprese del nostro territorio anche quelle B2B non hanno bisogno di tutto questo non hanno dei grandi canali perché poi hanno un linguaggio tecnico devono raccontare certe cose in certa maniera quindi questo è un altro è un altro aspetto che c'è una città particolare con grandi imprese multinazionali molto forti diverse da quello che può essere non so come a Milano dove se tu hai la moda se tu hai imprese di questo tipo quelle devono parlare necessariamente ma è da fare per farlo ovviamente ci vogliono anche persone all'interno che poi possano raccontare questo possano andare a fare e ripeto queste persone sono molto ridotte in un'istituzione come la nostra questo in realtà è anche un problema di formazione perché se per esempio a Monte i conservatori ad esempio fossero anche formati oltre a fare il loro lavoro di conservatore a fare il lavoro di racconto il racconto verrebbe fuori naturalmente dall'interno invece così il racconto voglio dire c'è è che c'è sempre voglio dire lì c'è il nucleo del racconto poi il racconto va in qualche maniera messo in forma ed è possibile farlo ma la messa in forma voglio dire è un mestiere è un mestiere particolare poi anche le imprese voglio dire io poi dirigo un master al business school di marketing communication e new media e quindi vedo anche che cosa le imprese e quindi noi stiamo preparando questi questi studenti a entrare e a dirigere gli uffici comunicazione e multimedia ecco diciamo che anche visto dall'altra parte questa consapevolezza voglio dire che si è editori publishing eccetera non è così non è così avanzata non è così avanzata in tutte le imprese vedo imprese anche dei grandi brand che non hanno questa consapevolezza e quindi d'altra parte è un problema culturale anche di quel tipo perché se tu vai a raccontare bisogna fare questa un'impresa che non ha sviluppato questo all'interno e quindi dire io valorizzo quello che tu stai facendo nei tuoi canali eccetera e questi ti guardano oppure quelli che fanno il digitale vengono ritenuti sì importanti ma poi effettivamente fino a un certo punto è chiaro che se noi guardiamo voglio dire le 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 grandi imprese multinazionali come la coca cola come queste come l'ego hanno la loro parte publishing è pari alla parte che fanno riferimento al al prodotto però ce l'hanno nel dna loro il racconto ce l'hanno ce l'hanno e lì nasci nasci con questo si vedi la la red bull voglio dire la red bull guadagna più dalle attività che fa di publishing che dalle attività che fa così come e su questo stanno andando musei voglio dire musei a livello internazionale si stanno muovendo voglio dire su questo anche se non completamente in tutti gli aspetti che abbiamo detto però hanno questa questa consapevolezza e penso che questo sia sia importante e bisogna trovare bisogna bisogna provare e quindi la crescita da parte del pubblico e la crescita dal parte privato di questa consapevolezza deve esserci ricordando una cosa che e questo è sempre a ricordare che le mutazioni culturali la consapevolezza culturale è più lenta dei cambiamenti che ci sono e se noi pensiamo che 18 anni fa di fatto nascevano i primi blog con delle lensuolate di testo e niente altro e sono passati soltanto 18 anni e sono 10 anni da quale abbiamo facebook twitter eccetera e quindi ecco il cambiamento età e non sappiamo quello che ci sarà domani il cambiamento è tale per cui anche le le istituzioni non soltanto quelle pubbliche che hanno una gravità un po' istituzionale ma anche quelle private ad adeguarsi adeguarsi credendoci credendoci perché non è semplicemente dico bene lo fanno tutti e quindi faccio il digitale e no e no lo devi fare capendo che devi diventare un editore e questa consapevolezza non c'è in tanti devi diventare un editore ma se anche la tua piccola cosa se sei anche un piccolo però quello che fai lo devi fare da questo punto di vista è chiaro che quello che noi facciamo per esempio su anche la business school e creare però anche le competenze per tutto questo perché se no voglio dire quelli che lavorano non sono bravissimi ma come si dice dalle nostre parti smanettano smanettano coi con più sanno fare cose meravigliosi ma trasmanettare tecnicamente e riuscire a fare voglio dire una progettualità e riuscire a fare tutto questo è d'altra parte le competenze che c'erano prima non ci sono più chi era bravo nelle imprese precedentemente a comunicare non ha più le competenze del digitale ecco allora ci si trova in una situazione in cui non riescono ad adeguarsi quelli che erano nel mondo pre-digitale e quelli che sono nel mondo digitale sanno soprattutto tecnicamente come muoversi ma non la progettualità non a fare dei piani di comunicazione che prima i piani di comunicazione prima riguardavano soprattutto i diversi media adesso invece riguardano il contenuto ed è un passaggio fondamentale cioè quindi quello che ci dobbiamo ricordare al di là voglio dire dell'istituzione musei è che c'è una rivoluzione per la quale non ci sono ancora le professionalità e soprattutto il rischio è che le professionalità vengono realizzate su quelle che sono le tecnologie ideologiche che domani sono già cambiate e non hai lo spessore per riuscire per riuscire a cambiarle e quindi voglio dire siamo in una terra veramente di mezzo bellissima da questo punto di vista ma anche perché bisogna secondo me la vera la vera skill che bisogna avere oggi è quella di essere pronti al cambiamento in continuazione perché adesso per esempio come dicevo hai dieci anni che c'è Facebook ma Facebook sembra già che stia tramontando sta perdendo terreno rispetto a Instagram per esempio poi per esempio e poi in funzione ovviamente dei diversi tipi di pubblico quindi giovani voglio dire se tu hai un pubblico giovane devi inseguire dove va e non puoi più farlo attraverso Facebook non ti regge adesso c'è Instagram ma anche perché poi il vedere che cosa il vedere che l'estetica della rete è un'estetica visiva in cui anche Twitter voglio dire che è nato 140 caratteri ma testuale adesso se tu non metti un'immagine o metti un video anche su Twitter non viene notato io vedo che anche a livello personale se metto un testo o metto un video l'aumento è è geometrico in questo momento la reach dei video sta aumentando notevolmente dappertutto anche perché tutti stanno per mettere sponsorizzazioni ai contenuti sponsorizzati all'interno dei video quindi stanno pompando in una maniera pazzesca sui video e quindi tutti noi che raccontiamo dovremmo abituarci a farlo in video sai quello è probabilmente poi può darsi che fra cinque anni c'è talmente una tala che implode e quindi devi ripensare il testuale e ripensare che diavolo di testuale c'è bisogna continuamente essere pronti è questo ecco per quello che ti ci vuole una competenza io dico sempre un po' di più di quella che è la competenza tecnica perché se no se no se non hai una competenza anche culturale dietro riesci di poi viene viene eliminato dal dal mercato e e quindi non è semplice anche perché poi dopo uno dice le scuole l'università gli istituti il business in cui tutto eh devi avere poi dopo dei formatori quali formatori su cosa si sono formati in un momento di grande cambiamento è una catena che pone problemi che è il fascino della situazione nella quale siamo ma che ci pone problemi e tornando a noi come istituzione Bologna Musei siamo all'interno di tutto questo speriamo di riuscire a fare un qualche cosa che abbia che così che abbia che abbia un suo un suo senso come come progresso come linea sulla quale tentare di fare di fare le cose sapendo che abbiamo questo enorme materiale che è un insieme di contenuti che aspettano soltanto di essere raccontati da un lato ma di trovare i canali per raggiungere quelli che sono i destinatari quindi per concludere quale secondo lei la visione che tutta l'istituzione deve avere da qui a dieci anni e qual è invece il prossimo piccolo passo che deve fare beh la visione è quella di capire come da una parte conservare dall'altra riuscire a raccontare a promuovere e come diciamo sempre i musei devono uscire fisicamente da se stessi quindi essere per quanto riguarda i residenti laddove sono e quindi se sono nelle piazze raccontiamo nelle piazze proprio fisicamente dobbiamo andare a fare questo e dall'altra invece raggiungerli attraverso attraverso i media sia al di fuori attraverso i digitali sia al di fuori sia al di dentro accompagnando all'interno quelli che sono i nostri racconti tenendo conto d'altra parte di quelli che sono invece i visitatori proprio perché questi sono un altro aspetto fondamentale di un'attività voglio dire di un museo civico come il nostro con tutti queste meravigliose collezioni permanente uniche e distintive ecco dall'altra il piccolo passo è di cominciare a individuare quegli aspetti comunicativi che possono dire che sono piccoli passi nella direzione che abbiamo che abbiamo detto che vadano quantomeno quantomeno in quella in quella direzione e lo facciamo con le modalità diverse sia le aperture le aperture dei musei in orari strani quindi alcune volte li abbiamo tenuti fino a luna le due di notte vedendo pubblici diversi che non sono mai venuti e quindi anche fisicamente modificando le nostre aperture modificheremo modificheremo gli orari sia ripeto questi tentativi di fare da una parte videogiochi come ci apprestiamo a fare sia di così migliorare o innovare quella che è la parte digitale che stiamo facendo partendo dagli archivi come renderli più più appettibili come renderli racconti e tentare di trovare dei partner questo è l'altro aspetto trovare dei partner che siano disposti a sperimentare qualche cosa con noi capendo è quello che noi dobbiamo capire qual è il valore aggiunto per loro per noi lo sappiamo ma se non riusciamo a capire per loro è difficile che riusciamo a convincere è stata una chiacchierata molto interessante bene abbiamo parlato di tanto e di tutto sarebbe interessante farla periodicamente per vedere poi i passi il cammino che le istituzioni fanno vediamo se fra un anno riusciamo a fare è che purtroppo i tempi delle istituzioni sono un po' tempi storici quando sono venuto appunto come chiamato come presidente quindi che è una carica diciamo onoraria nel senso che non è una carica che ha e monumenti e quindi con la grande volontà di fare con tutta la buona volontà ecco che quello che si vorrebbe fare ha dei tempi più lunghi che sono i tempi pubblici ma anche voglio dire nove anni come vice rettore mi hanno insegnato che ho ottenuto grandi risultati ma i tempi sono quelli proprio perché voglio dire ogni cosa che il pubblico fa ha delle norme che sono diverse dal privato e quindi dire fra un anno sarebbe come se invece di essere un'istituzione fossimo una fondazione potrei dire fra un mese mentre invece l'istituzione che è un'istituzione che ha una sua autonomia ma all'interno dell'amministrazione comunale un anno è un periodo breve su cui speriamo che alcune cose vengano fatte va bene allora ci vediamo tra un anno assolutamente grazie mille bocca al lupo grazie mille